Il lockdown ha letteralmente messo in ginocchio il settore dello spettacolo, il teatro, il cinema, lo spettacolo dal vivo, gli spettacoli itineranti e tutte le aziende del loro indotto. Numerose le manifestazioni a testimonianza del grave disagio di tutto il settore, di tutto il comparto, ma l'andamento incoraggiante della curva epidemiologica e l'imminente arrivo della stagione estiva rendono compatibili la riapertura in sicurezza di cinema, di teatri, la possibilità di concerti, di spettacoli itineranti, l'acquisto online dei biglietti, l'uso obbligatorio della mascherina, percorsi delimitati in ingresso e in uscita per evitare assembramenti, sembrano le regole possibili per consentire la riapertura in sicurezza dei luoghi di cultura. Abbiamo letto la sua lettera CTS e diciamo finalmente, finalmente perché in nome della sicurezza sacrosanta che tutti abbiamo voluto nel corso di quest'anno si è chiuso, si è 2020 hanno perso al botteghino il 72% del fatturato, il cinema, il 78% del teatro e la musica l'89%. E abbiamo chiesto tutti insieme purtroppo tanti sacrifici a tutti questi gestori, a questi artisti, a questi professionisti nel corso di quest'anno. Sappiamo però, in base a una elaborazione di Asso Musica, che tra giugno e ottobre del 2020, su un campione di concerti dei 761 organizzati, dove hanno partecipato circa 300.000 persone, non si è registrato nessun caso di contagio. E quindi chiediamo e appoggiamo la sua richiesta finalmente di riaprire, ma chiediamo per favore di farlo senza false partenze.